Buongiorno popolo, oggi con questo bellissimo cielo velato andiamo alla Spezia Migliarina, c'è il porta aperte del deposito Rottabili Storici della Fondazione FS, finalmente dopo due anni di chiusura oggi riapre. Fino a due anni fa c'era il treno storico, quest'anno invece c'è sempre il treno storico da Milano, la cambiata non è più centrale ma in questo caso è a Porta Garibaldi, confermata solo a Pavia e costa di 40 euro a persona all'andata e altrettanti al ritorno. Quindi andiamo di treni regionali che sono molto più economici anche perché il treno storico non ferma. Bene, siamo arrivati adesso a Chiavari, facciamo poi il cambio con il treno che ci porta direttamente alla Spezia perché il treno sul quale eravamo saliti terminava la corsa su Stare Levante in leggero ritardo quindi rischiavamo di perdere la coincidenza con il treno che è dietro, mentre qua a Chiavari abbiamo la garanzia che lo prendiamo e adesso dovrebbe arrivare. Sentiamo. Esatto. Sta arrivando adesso il treno per la Spezia. E adesso aspettiamo il treno, sì, l'autobus che ci porterà direttamente al dorso di la Spezia Migliarina. Siamo dentro il dorso della Spezia Migliarina e questo è lo stato della 62500, la signorina in riparazione. E questa è la sua caldaia. E questa è la sua caldaia. non sa l' Rowan serait la sua caldaia. Non sa l'è. No, non sa l'è. È solamente da una mani non senti a la невista. Grazie. 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 Grazie.